Sigilli ad un'autocarrozzeria di Gela, trasformata in un vero e proprio bazar di auto e moto rubate, sorge sulla stradale per Catania. Gli agenti del locale commissariato, collaborati dai colleghi del distaccamento della stradale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno fatto eruzione nei locali ed hanno rinvenuto occultate all'interno di un ufficio due scatole contenenti punzoni in acciaio utilizzato per la ricostruzione alfanumerica di telai ed un'agenda utilizzata per la prova di punzonatura. Trovate inoltre tre centraline di autovetture di provenienza furtiva, delle quali il titolare non ha fornito motivazioni valide a giustificarne la presenza. Un successivo controllo dei mezzi in sosta all'interno della carrozzeria ha permesso di individuare una Smart 4TU, una Renault Twingo ed un autocarro Fiat Ducato, tutti con telai illegibili. Rivenute anche quattro scocche tagliate con le combinazioni alfanumeriche alterate ed un allongarone di una BMW, per gli inquirenti in quell'autocarrozzeria si eseguiva un'attività di taglia in colla di varie auto in merito al rinvenimento di numerosissimi pezzi di ricambio e parti meccaniche di varie marche e modelli di automobili e diverse targhe risultate di provenienza illecita. Oltre all'autocarrozzeria è stato sequestrato anche il forno per la verniciatura dei veicoli in quanto privo della prescritta autorizzazione per l'emissione dei fumi in atmosfera, oltre ad essere privo di registro di carico e scarico di rifiuti e della autorizzazione sanitaria. Sempre la polizia, nelle adiacenze di un agriturismo che sorge sulla 417, ha rinvenuto sei centraline relative ad auto di varie marche, oltre a svariate parti di carrozzeria e meccaniche. Il controllo è stato effettuato anche sulla statale 190 nelle adiacenze di una ditta edile. Trovate diversi libretti di autovetture, certificati di proprietà di macchine risultate rubate e due scocche di autovetture. Questi siti, riferisce alla polizia, erano senza ombra di dubbio utilizzati dai malviventi per occultare le auto rubate e lavorarle lontano da occhi indiscreti. Gli agenti di polizia hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 24enne pregiudicato per reati contro il patrimonio, sospettato di gravitare nel giro delle auto rubate. L'esito è stato positivo. Rivenuti al secondo e al terzo piano dello stabile di famiglia, nel centro storico ed in un garage, numerosissimi componenti di autovetture, motocicli e ciclomotori, sulla presenza dei quali il ragazzo non ha fornito valide giustificazioni. Il giovane è stato denunciato per ricettazione. Identica accusa anche nei confronti di una coppia di coniugi. Lui 38 anni, lei 33. Utilizzavano una Fiat 500 ed un autocarro daily Iveco con i codici dei telai contraffatti. I mezzi sono stati sequestrati. Un ragazzo invece è stato bloccato in possesso di un ciclomotore con il telaio contraffatto.